I tecnici informatici sono al lavoro per installare le postazioni PC che serviranno a tracciare i vaccini e a trasmettere di conseguenza i dati direttamente al Ministero della Salute. Qui siamo al Centro Organizzativo Territoriale di Cosenza e oggi abbiamo fatto un'incursione per verificare qual è lo stato dell'arte. Si registrano i vaccini immediatamente nel momento in cui vengono somministrati e trasferiti subito tramite questo sistema, questo software a livello nazionale in maniera tale che si monitora costantemente l'andamento dell'attività vaccinale. E' un momento importante, un altro tassello rispetto all'informatizzazione della rete della prevenzione in questo caso dell'attività vaccinale che certamente aiuterà gli operatori sanitari, i medici in primis, i cittadini e quindi migliorerà sicuramente il modo di rapportarsi, di relazionarsi con tutti quanti. Una sorta di operazione trasparenza perché attraverso il Q-Code si saprà quel vaccino a chi è stato inoculato. Avremo sia sedi fisse che unità mobili vaccinali dispiegate sul territorio perché dovremo avere come obiettivo la possibilità di restare più vicini ai cittadini per la somministrazione del vaccino, soprattutto nei soggetti che hanno un'età avanzata. È una grande sfida perché richiede un dispiego di energie e di risorse importanti che sono sia di natura tecnologica, come queste perché saranno le prime e poi saranno ulteriormente arricchite, sia dal modo di vista dei sussumane. Postazioni mobili e fisse che entreranno in funzione nel più breve tempo possibile e su cui saranno caricate anche le dosi inoculate fino ad ora. È un working pro che ci solleva da numerose responsabilità come quella della trasparenza, ma soprattutto permette anche di rapidizzare i tempi, quindi questo ci aiuterà moltissimo. Quindi spero che si applichi nel più breve tempo possibile e penso che già lunedì noi saranno in grado di essere attivi.